Torna in campo stasera a Viterbo, il basket Barcellona fresco di conquista di secondo posto. I giallorossi dopo la vittoria contro Teramo vogliono tornare a vincere lontano dal Palalberti dopo il passo falso di Palestrina. L'avversario non è certo dei più irresistibili ma guai ad abbassare la guardia. La Balletti Parco Tel Viterbo è in lotta infatti per evitare l'ultimo posto in classifica e se la giocherà fino alla fine contro la San Michele Maddaloni. In settimana Sereni e compagni hanno lavorato con grande intensità per portare a casa due punti davvero importanti in vista dell'ultimo impegno della regular season tra una settimana esatta al Palalberti contro la Mastria Vending Catanzaro. Sul fronte giallorosso c'è la consapevolezza che difendere il secondo posto a questo punto è d'obbligo. Palestrina giocherà infatti tra le mura amiche contro la Luis Roma, Valmontone viaggia invece alla volta di Patti. Proprio lo sport e cultura Patti dopo la preziosa vittoria ottenuta in casa della Vis Nova Roma vuole continuare a far bene e quindi darà filo da torcere alla vecchia conoscenza Luca Bisconti e compagni. La Zanella Basket Cefaluggio che era invece in casa del Teramo Basket 1960.